Visto che l'argomento guadagnare online riscuote molto successo all'interno di questo canale ho deciso di realizzare un nuovo video approfittando di questo momento in cui è disponibile una nuova iniziativa che ti permetterà di guadagnare 550 euro in maniera semplice e veloce Nessun titolo clickbait dunque perché è possibile davvero guadagnare fino al 550 euro e quindi seguimi fino alla fine di questo video e scoprirai come fare Pochi giorni fa ho pubblicato su questo canale due video che hanno ricevuto un bel po' di visualizzazioni e di mi piace Il primo è un video dedicato a come funziona Revolut o meglio la mia recensione di Revolut Un conto corrente smart ricco di funzionalità e dai costi davvero contenuti Se puoi scoprirne di più su Revolut ti lascio qui sopra nelle schede il video con la mia recensione Ed il secondo video che ho ottenuto diverse visualizzazioni e mi piace è il video dedicato alla possibilità di guadagnare fino a 60 euro attraverso IAP ed il suo programma Invita Amici Il video si intitola come guadagnare 60 euro in maniera semplice e veloce e parla proprio dell'iniziativa Invita un Amico promossa da IAP che era valida dall'1 al 15 aprile 2021 ma all'interno di quel video spiegavo che spesso IAP in realtà rinnova queste promozioni ed effettivamente proprio stamattina il 16 aprile IAP ha avviato una nuova opportunità di guadagnare fino a 60 euro invitando tre amici ad aprire un conto IAP entro il 29 aprile Questo significa che se hai visto il mio primo video e sei riuscito già ad invitare tre amici che hanno aperto il loro conto IAP ed hai ottenuto il primo bonus di 60 euro potrai guadagnare altri 60 euro invitando altri tre amici entro il 29 aprile del 2021 Se non sai come funziona questa promozione o se vorresti saperne di più ti lascio nelle schede il video dedicato a come guadagnare 60 euro con IAP Oggi invece voglio parlarti di come puoi guadagnare 550 euro con Revolut e questa volta con il programma invito un amico di Revolut Prima però ti chiedo come sempre di aiutarmi con l'algoritmo di YouTube Per farlo ti basterà mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale ma anche per non perderti i prossimi video che verranno pubblicati su questo canale e quindi anche alcune delle opportunità di guadagno di cui parlerò nei prossimi video Con una email del 15 aprile 2021 Revolut ha comunicato a tutte le persone che hanno già un conto Revolut della possibilità di guadagnare 22 euro per ogni amico invitato fino ad un massimo di 25 amici ed il messaggio inviato da Revolut è questo Revolut è meglio con gli amici ed un po' di denaro extra potrebbe essere molto utile perché non inviti anche i tuoi amici ad aprire un conto Revolut un conto con la nostra super app finanziaria che offre soluzioni bancarie e digitali quotidiane a livello globale aiuta i tuoi amici a raggiungere i loro obiettivi finanziari attraverso Revolut invitali ad iscriversi ad aprire un conto Revolut e guadagna per ogni amico idoneo 22 euro in pratica condividendo con i nostri amici, con i nostri conoscenti tramite i nostri social e quindi Facebook, Instagram, Youtube la nostra esperienza con Revolut ed invitando altre persone ad aprire un conto su Revolut potremo ricevere 22 euro per ogni amico invitato fino a un massimo di 25 amici e quindi 25 amici per 22 euro uguale 550 euro di potenziale guadagno semplicemente per parlare di Revolut e della nostra esperienza con Revolut all'interno dell'email inviata da Revolut viene spiegato il metodo più semplice per invitare i nostri amici ovvero accedere all'app di Revolut, cliccare sull'apposita sezione invita i tuoi amici quindi selezionare dalla nostra rubrica di contatti gli amici che vogliamo invitare ad aprire un conto su Revolut ma chiaramente possiamo invitare i nostri amici anche copiando il nostro link condividendolo sul nostro blog, sui nostri account social oppure tramite un video di Youtube o come preferiamo abbiamo davvero tantissime opportunità per condividere il nostro link ed invitare i nostri amici ad aprire un conto Revolut per ogni amico idoneo vedremo fra poco cosa significa idoneo che aprirà un conto Revolut riceveremo 22 euro vediamo a questo punto cosa intende Revolut per amico idoneo e quindi cosa devono fare le persone che invitiamo per aprire il loro conto Revolut per far sì che ci venga accreditato questo bonus o questa ricompensa di 22 euro per amico semplificando per ottenere il nostro bonus da 22 euro il nostro amico o le persone che invitiamo devono aprire un conto Revolut, non essere mai stati correntisti Revolut o aver avuto un conto Revolut prima d'ora ordinare una carta fisica ed effettuare tre transazioni con la carta Revolut entro il 13 maggio del 2021 andando però a leggere più in dettaglio quelli che sono i termini e condizioni di questo programma di questa iniziativa in vita un amico scopriamo esattamente tutti i passaggi e tutte le condizioni che ci permetteranno di guadagnare 22 euro per amico e ti consiglio nel caso in cui inviti delle persone per ottenere questi 22 euro o fino a 550 euro di spiegare esattamente cosa dovranno fare le persone oltre ad aprire il loro conto Revolut prima di tutto devono utilizzare per la registrazione il nostro link invita un amico se non utilizzeranno il nostro link invita un amico non ci verranno assegnate come persone presentate da noi e quindi noi non potremo ottenere quel bonus quindi passo numero 1 copiare il nostro link oppure condividere il nostro link e ricordare alle persone che se vogliono aiutarci ad ottenere il bonus devono utilizzare quel link passo numero 2 è aprire il conto e verificare l'identità per la verifica dell'identità bisognerà superare il processo KYC indicato con le lettere KYC ovvero Know Your Customer è quel processo di verifica utilizzato praticamente da tutte le banche e da tutti i sistemi di pagamento per verificare l'identità del correntista l'identità della persona che sta prendendo quel conto fatto questo i nostri amici dovranno chiaramente aggiungere del denaro sul loro conto Revolut potranno farlo con un bonifico bancario con un conto corrente quindi oppure con una carta di debito o una carta prepagata il penultimo passaggio da compiere è ordinare la carta Revolut fisica e l'ultimo passaggio è quello di effettuare almeno tre transazioni entro il 13 maggio del 2021 con la carta fisica oppure in attesa della carta fisica la stessa Revolut a spiegare che è possibile utilizzare la carta virtuale e quindi effettuare ad esempio un pagamento tramite il nostro smartphone con la nostra carta virtuale di Revolut se tutti questi passaggi non verranno completati correttamente chiaramente noi non potremo guadagnare quel bonus da 22 euro però al mio avviso è un metodo semplice e alla portata di tutti per riuscire a guadagnare fino a 550 euro semplicemente spiegando quelle che sono le potenzialità di Revolut proprio come ho fatto io nella mia recensione che ti ho lasciato nelle schede e far sì che altre persone possano sfruttare questo conto in maniera semplice e veloce è molto importante inoltre precisare ai nostri amici se vogliamo spiegare del perché stiamo sponsorizzando Revolut e quindi oltre al fatto di trovarci bene e del fatto che possiamo guadagnare 22 euro per ogni amico invitato è molto importante spiegare ai nostri amici che loro non guadagneranno nulla da questa iniziativa si tratta infatti di un'iniziativa che ricompensa solo la persona che invita altre persone ad aprire il conto Revolut non ci sono quindi premi o ricompense per gli amici che abbiamo invitato e che aprono il loro conto su Revolut anche se in realtà potranno poi a loro volta invitare altre persone in Revolut sono esclusi inoltre da questa iniziativa tutti i conti Revolut Junior e Revolut Business come vedi anche in questo caso ed anche in questo video ti ho parlato di un altro metodo semplice e veloce dalla portata di tutti per guadagnare fino a 550 euro non servono grandi competenze e possiamo tutti diventare in qualche modo dei piccoli influencer condividendo la nostra esperienza con Revolut ed invitando altre persone ad utilizzare Revolut io stesso al di là dei miei articoli o dei miei video ho consigliato ad alcuni amici Revolut amici in particolare che avevano bisogno di ricevere denaro in altre valute e si sono trovati davvero bene ancora oggi mi ringraziano per aver consigliato loro Revolut spero dunque che questo genere di video ti piaccia e ti invito se vuoi vedere altri video come questi o se vuoi che realizzo nuovi video quando scopro delle iniziative interessanti a lasciare un commento qui sotto e farmi sapere cosa ne pensi se sei interessato invece ad altre opportunità di guadagno online ti invito a guardare i video che ti lascio linkati nelle schede dedicati a come guadagnare online nel 2021 con tantissime opportunità per avviare un business online oppure per crearsi una piccola entrata extra nel 2021 oppure il video in cui ti racconto come guadagno come io stesso sono riuscito a creare 9 fonti di reddito differenti anche questo video lo troverai linkato nelle schede io ti invito come sempre se il video ti è piaciuto a mettere un pollice in su iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale ciao 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 ciao